Buonasera dal TG6. Tra le vittime dell'attentato del tir a Berlino c'era una giovane di Sulmona, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne. I genitori sono partiti ieri pomeriggio per il riconoscimento e anche per l'analisi del DNA. L'intera comunità si è stretta intorno alla famiglia. Una famiglia colpita al cuore dal terrorismo, una vita spezzata a soli 31 anni, la tristezza, l'orrore e lo sconforto, frutto dell'ennesimo attentato che da anni violenta l'umanità. Quest'ultimo infrange anche i sogni di una giovane abruzzese, Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, di Sulmona. Il suo sogno, quello dell'integrazione, finisce a Berlino, dove da tre anni viveva e lavorava. Fabrizia da martedì mattina è ufficialmente data per dispersa, da quando non si è presentata al lavoro, da quando è stato ritrovato il suo cellulare, tra le bancarelle dei mercatini di Natale, dove il tir, lunedì sera, ha lasciato dolore e morte. È una città che si sta raccogliendo intorno al dolore di una famiglia di Sulmona per le sorti di Fabrizia, una ragazza trentenne che è fuori città per motivi di lavoro e che è stata coinvolta a suo malgrado in una vicenda terribile. Io ho avuto modo di sentire sia la zia che la signora Giovanna, quello che noi possiamo fare nei limiti delle nostre disponibilità. Loro sanno che stiamo qua, insomma tutta la comunità è a disposizione per quelle che sono le nostre possibilità. Questa mattina ci troviamo in località Arabona, alle porte di Sulmona, alle mie spalle, giù in fondo, l'abitazione di Fabrizia, dove ha vissuto per tre anni. Una situazione qui all'esterno abbastanza sconfortante, i vicini escono e si nota nei loro occhi il dolore per questa drammatica notizia. Lei conosceva Fabrizia? Non di persona, i genitori, la mamma, il padre, insomma sono amici di mia moglie, quindi a lei personalmente non la conoscevo. Che possa succedere una cosa del genere così grave a una persona così vicina del posto? Purtroppo può succedere a chiunque, quello che dispiace con una ragazza, con quella cultura, si è dovuta partire, andare in Germania e lasciare la vita al suo in Germania, insomma è una cosa che tira a triste. Avremmo preferito, insomma che dopo tutti quegli studi, lo sforzo dei genitori sicuramente per farla studiare, se poteva rimanere qua, ma si sa che è il caso, non ci possiamo fare niente. E quindi tutte le contoglianze, la famiglia e niente, il coraggio, ci vuole coraggio e soprattutto non avere paura. Lei ha potuto parlare? Li conoscono tutti quanti, io diciamo che sono tra virgolette un intruso perché vengo da fuori, quindi vengo dal Pescarese, ma chi sta qua la vista cresce, insomma. E purtroppo un altro lutto per la comunità di Sulmona, quello per la prematura scomparsa di Luigi Paolini, il sessantenne impiegato in municipio, si è tolto la vita poiché coinvolto nell'inchiesta sull'assenteismo in comune. Accusato di assenteismo con altri impiegati dell'ente, un dipendente del comune di Sulmona, Luigi Paolini, si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua abitazione. Dopo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, nei giorni scorsi la Corte dei Conti gli aveva chiesto il pagamento del danno erariale. L'uomo, sessantenne, era tra i 25 nell'elenco dei giudici contabili. Al dipendente venivano contestate solo delle timbrature fatte per conto della sua responsabile. Un danno di 55 euro a cui la Corte dei Conti aveva aggiunto la richiesta di altri 15.000 euro per il danno d'immagine. Così oggi l'amministrazione comunale si stringe in segno di lutto alla famiglia Paolini per la prematura scomparsa. Il primo cittadino ieri ha voluto incontrare i dipendenti comunali in una riunione a porte chiuse in aula consigliare per parlare di quanto accaduto. Per questo sono saltati in comune anche gli incontri politici. La notizia per la morte di Luigi ha colto tutti di sorpresa a Palazzo San Francesco. In pochi vogliono parlare e nei corridoi si respira un clima molto teso. Oggi è un momento per stare in silenzio, un momento per pregare e basta. Torniamo a parlare dell'omicidio di Giulianova, quello della scorsa estate. Si è concluso con la condanna a 14 anni, due mesi e 20 giorni a risarcimento del danno in favore delle parti civili da quantificarsi. In separata sede il processo, corrito abbreviato, che vedeva davanti al GUP Giovanni De Renzi, se il sessantenne caldaista Giuliese Dante Di Silvestre accusato di omicidio volontario aggravato per aver accoltellato e ucciso al termine di un diverbio stradale, l'imprenditore 41enne Paolo Cialini. L'omicidio, che avvenne sotto gli occhi della figlia di appena sei anni della vittima, il PM Enrica Medori, aveva chiesto per l'uomo la condanna a 17 anni di carcere con il riconoscimento delle generiche equivalenti alle aggravanti. L'omicidio si consumò in pochi minuti lo scorso 14 giugno, quando Di Silvestre e Cialini, a bordo delle rispettive auto, si incrociarono per strada. Tra i due scoppiò un litigio per questioni stradali, una discussione che degenerò in pochi minuti e che culminò con una coltellata sferrata da Di Silvestre all'indirizzo di Cialini, coltellata che gli fu fatale, un delitto d'impeto per i legali di Di Silvestre, che nel corso della ringa difensiva hanno sostenuto con forza la tesi dell'omicidio preterintenzionale, una tesi quest'ultima che per gli avvocati, Gennaro Lettieri e Nadia Baldini, avrebbe trovato conferma non solo nei risultati dell'autopsia, ma anche nel comportamento di Di Silvestre, subito dopo il delitto. Fu proprio Di Silvestre, che ha sempre sostenuto di non essersi accorto che nell'automobile ci fosse la bimba, a soccorrere Cialini e a chiamare i soccorsi, aspettando in strada anche l'arrivo dei carabinieri. Lo stesso Di Silvestre, subito dopo il delitto, aveva provveduto ad un primo risarcimento nei confronti della figlia della sua vittima. È una sentenza abbastanza equilibrata, tenendo conto del fatto, ha commentato l'avvocato Giovanni Melchiorre, che rappresentava la compagna e la figlia della vittima. Noi abbiamo chiesto non una sentenza che fosse una pena esemplare, ma che venisse fatta giustizia per un fatto grave. Da questo fatto non risultano distrutte due famiglie, ma una soltanto, quella di Paolo Cialini e della figlia. Il giudice ha disposto anche una provvisionale immediatamente esecutiva di 100 mila euro in favore della figlia della vittima, di 40 mila euro in favore della compagna e 20 mila in favore della sorella. Ci spostiamo a Pescara, un'importante attività di controllo dei carabinieri del NAS nel comparto ittico che ha condotto al sequestro di tre tonnellate di prodotto conservato in pessime condizioni igienico-sanitarie. Andrea Costantini. Oltre tre tonnellate di prodotti ittici conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie sono state sequestrate dai carabinieri del NAS di Pescara nell'ambito di una vasta serie di controlli predisposti in questa filiera nei giorni che precedono il Natale e che hanno portato a elevare violazioni per 10 mila euro mentre il valore della merce vincolata ammonta circa 25 mila euro. In provincia di Chieti, le agenti del nucleo antisofisticazione, coadiuvati dal personale della ASL, hanno sequestrato 750 kg di mitili che avevano data di confezionamento successiva a quella reale e il legale rappresentante dello stabilimento è stato denunciato per tentata a frode presso la Procura della Repubblica di Chieti. Nel Pescarese è stata sospesa l'attività di un lavoratorio abusivo per la preparazione di prodotti gastronomici a base ittica. Per 400 kg di prodotti ittici è stato imposto il divieto di commercializzazione poiché non sono state riscontrate informazioni sufficienti a ricostruirne la tracciabilità. Per il proprietario, elevate sanzioni amministrative per la violazione del cosiddetto pacchetto igiene. Nel Terramano, gli uomini del NAS hanno trovato anomalie in uno stabilimento per la lavorazione di prodotti ittici, in particolare nella trasformazione del pesce povero destinato ad essere consumato crudo, riscontrando al riguardo procedure di lavorazione non in linea con i dettami della normativa europea e nazionale. Oltre 18 quintali di pesce sono stati vincolati sanitariamente e messi a disposizione dell'autorità competente che dovrà esprimersi sulla destinazione. Altre due tonnellate avviate invece alla distruzione poiché prive di informazioni relative alla rintracciabilità. Restiamo a Pescara dopo tante polemiche, tante discussioni. È stato ufficializzato. Nei primi giorni di marzo avverrà il taglio della diga foranea. Ufficializzare la data e anche il cronoprogramma il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Entro gennaio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della barriera soffolta nell'area del porto di Pescara mentre ai primi di marzo si procederà al taglio di 70 metri della diga foranea. Il cronoprogramma degli interventi è stato stabilito questa mattina a Pescara nel corso di una riunione convocata dal presidente della regione Luciano D'Alfonso a cui hanno partecipato il comandante della Capitaneria di Porto Enrico Moretti e i rappresentanti del provveditorato alle opere marine del comune di Pescara, dell'Arta e dell'Arap. Nei prossimi giorni ci sarà l'adeguamento alle prescrizioni del via del progetto esecutivo della barriera soffolta. In seguito la conferenza dei servizi autorizzerà l'immersione del materiale e la movimentazione sommersa dei fondali interessati dalla barriera e in ultima istanza la ditta che si è aggiudicata all'appalto potrà avviare immediatamente i lavori in quanto non sono necessari ulteriori passaggi tecnici e burocratici. Per la diga foranea invece bisognerà attendere 45 giorni per il deposito del progetto esecutivo redatto dalla stessa ditta che si è aggiudicata alla gara per i lavori. Anche questo progetto dovrà recepire le prescrizioni del comitato via. Subito dopo l'elaborato sarà approvato e il cantiere potrà aprire. Nel frattempo la regione attraverso l'Arap ha avviato la procedimentalizzazione delle ulteriori opere già previste nel porto di Pescara e calate nel nuovo piano regolatore portuale recentemente approvato tra cui il prolungamento della banchina sud interventi per i quali nel masterplan sono stati destinati investimenti per 15 milioni di euro. E nella mattinata la stazione ornitologica bruzzese Ollus ha inviato un esposto di nove pagine con allegate all'autorità nazionale anticorruzione e al ministero delle infrastrutture affinché siano annullati i due appalti per la barriera soffolta e il taglio della diga forane aggiudicati da quasi un anno al provveditorato alle opere pubbliche in assenza delle procedure ambientali conclusesi solo ieri con numerose prescrizioni. L'esposto è stato inviato anche ai responsabili per l'anticorruzione del ministero delle infrastrutture e della regione Abruzzo e per conoscenza le procure di Pescara, l'Aquila e Roma. Numerose le questioni evidenziate nell'esposto in primo luogo la clamorosa inversione procedimentale con le gare aggiudicate 11 mesi prima della conclusione delle procedure di valutazione ambientale. Ci spostiamo all'Aquila la FPCGL e la RSU hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila. Ci spiega tutto Giorgio Alessandri. Come preannunciato nei giorni scorsi la FPCGL e la RSU hanno formalmente comunicato ai soggetti interessati l'avvio dello stato di agitazione del personale dell'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila. L'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila insieme all'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere sono stati istituiti con la legge 134 del 2012 per coordinare i processi ricostruttivi dopo il sisma del 2009. La legge ha dotato l'ufficio di 50 unità di personale di cui 25 unità assunte a tempo determinato dal comune dell'Aquila e 25 assunte a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Considerato l'enorme carico di lavoro tale dotazione organica è stata incrementata col tempo da personale tecnico altamente specializzato in maniere di ricostruzione. Attualmente dunque l'ufficio speciale dispone di ulteriori 17 unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza il 31 dicembre prossimo. Le recenti normative a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia prevedono per il personale assegnato agli uffici speciali in via di costituzioni alcuni istituti contrattuali ovvero i trattamenti economici differenziati e non riconosciuti al personale degli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e per la ricostruzione del cratere. Tale condizioni, denunciano i sindacati, hanno generato una disparità di trattamento giuridico ed economico tra il personale addetto e i predetti uffici. Di disparità di trattamento dobbiamo parlare riferendoci al personale dell'Usra. Infatti le normative adottate impediscono al personale la possibilità di impegnarsi nella nuova ricostruzione. Una condizione oggi facilmente risolvibile grazie all'opportunità di attingere per le relative sostituzioni dalle graduatorie degli idonei del concorso RIPAM. E ancora di disparità di trattamento si deve parlare tra i contratti a termine dell'USRC e quell'Usra i cui lavoratori vedranno scadere il contratto con quattro mesi di anticipo rispetto ai colleghi dell'ufficio speciale di Fossa. L'attuale stato di agitazione sindacale è dovuto tra l'altro anche alla possibilità che 10 unità di personale dell'Usra vengano destinate ai nuovi uffici speciali per il sisma del centro Italia come richiesto dal commissario straordinario Vasco Errani richiesta respinta per la forte mobilitazione della classe politica aquilana che ritiene tale forza lavoro indispensabile per la ricostruzione dell'Aquila eppure aggiungono i sindacati si corre il serio rischio di perdere 17 unità di personale a partire dal 1 gennaio 2017. Il progetto per la realizzazione della funivia di collegamento dal centro città di Terram all'università di Colleparco per il quale era stato destinato erano stati destinati 10 milioni di euro all'interno del masterplan non si farà e è stato decisivo sono stati decisivi i 14 voti della maggioranza del sindaco Maurizio Brucchi dura l'opposizione compreso l'Ateneo dell'università di Terramo ascoltiamo. Terramo non avrà la funivia di collegamento tra il centro storico cittadino e l'università di Colleparco in consiglio comunale hanno vinto in no della maggioranza di centrodestra ricompattatasi per l'occasione parliamo di un'occasione da 10 milioni di euro per un'infrastruttura prevista dal masterplan regionale e che l'amministrazione Brucchi ha palisemente rifiutato il primo cittadino per non smentire troppo se stesso avendo inserito il progetto di una cabinovia proprio nel suo programma elettorale ha dichiarato che l'intervento non è stato bocciato per sempre e che potrà essere rivalutato in un futuro ciò che importa è che i 10 milioni di euro ora restino comunque a Teramo per altre priorità su questo punto però il governatore D'Alfonso è stato chiaro il denaro previsto per la funivia teramana è strettamente vincolato ad opere di trasporto ed ecco che l'occasione non sfugge al sindaco di Silvi Francesco Comignani che chiede quei fondi per il suo comune al fine di realizzare un collegamento tra il Lido e il Borgo Antico delusione e rammarico da parte del rettore dell'università di Teramo Luciano D'Amico che ha definito Mio per la decisione politica decisione che fa fallire l'opportunità di rivitalizzare il centro della città collegandolo al campus universitario gli fa eco il gruppo consigliare del PD che ritiene il voto della maggioranza un errore madonnale ma anche una dichiarazione di guerra all'Ateneo la mancata funivia di Teramo avrebbe avuto il capolini a piazzare San Francesco con 20 cabine che avrebbero consentito il trasporto di 1200 persone in 3 minuti e 53 secondi è stato presentato a Chieti il terzo corso di orientamento dal titolo Economia del mare e valore della portualità al settore della logistica in Abruzzo può essere uno sbocco lavorativo importante per le nuove generazioni ascoltiamo fare dell'Abruzzo il centro nazionale della logistica è questo l'ospicio emerso dalla presentazione a Chieti del corso denominato Economia del mare e valore della portualità importanza della logistica e della intermodalità l'iniziativa formativa strutturata in 12 incontri con esperti e testimonial di caratura nazionale è organizzata dall'ente camerale Chietino con l'ASPO l'azienda speciale per i porti di Ortona e Vasto il Polo inoltra e l'istituto tecnologico per i trasporti e la logistica con la collaborazione del comune di Ortona il coordinamento è affidato all'ingegnere Antonio Nervegna le finalità del corso sono quelle di orientare i giovani verso un filone che noi riteniamo sia promettente che è quello della logistica noi riteniamo che l'Abruzzo abbia una collocazione molto importante nello sviluppo dei traffici in particolare est-ovest e ovest-est e che il porto di Ortona in particolare possa svolgere un ruolo determinante proprio per questo bisogna attrezzare le infrastrutture ma bisogna preparare le persone e le persone una parte diciamo del materiale umano è qui giunto alla terza edizione il corso è gratuito per i partecipanti si rivolge a giovani dai 16 ai 35 anni ma è aperto anche a professionisti e imprese che intendono acquisire nuove conoscenze sull'economia e dei trasporti marittimi della logistica portuale e della intermodalità il segretario dell'ente camerale direttore ASPO Paolo Asabella ha spiegato le finalità agli studenti delle ultime classi dell'istituto tecnologico per i trasporti e la logistica di Ortona questo corso è di altissima qualità basta vedere i relatori che siamo riusciti ad avere qua in questo corso quindi il fatto di avere questi ragazzi anche oggi in platea noi abbiamo come compito anche quello di far incontrare la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro perché molte volte quando voi uscite da scuola non siete pronti ad affrontare subito immediatamente il mondo del lavoro e non siete anche in linea con le esigenze delle imprese in questo caso del mondo della portolarità quindi noi cerchiamo di essere un po' dei facilitatori dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro Nei giorni scorsi il neocomandante provinciale dei Carabinieri di Pescara il colonnello Marco Riscaldati ha visitato alcuni comuni dell'entroterra della provincia per incontrare i residenti e parlare delle criticità del territorio noi lo abbiamo incontrato a Penne Il nuovo colonnello provinciale in vista qui a Penne le prime impressioni quali sono? Questa visita che ho voluto fare qui al comune di Penne al sindaco rientra in quel concetto che io spesso ribadisco cioè stare al fianco dei sindaci e quindi essendo qua venuto anche a visitare il locale comando di compagnia mi sembrava doveroso anche incontrare nel municipio in municipio il sindaco L'area Vestina sta vivendo dei momenti non troppo belli specialmente quando riguarda i furti che cosa si può fare di più? Si può fare intanto diciamo anche che questo tipo di realtà a me non è una realtà tipicamente attribuibile alla sola area Vestina è un fenomeno che riguarda gran parte del territorio nazionale quindi non è che l'area Vestina in questo momento vive una situazione di eccezionalità rispetto al resto del territorio nazionale quello che si può fare è innanzitutto attuare anche dei minimi accorgimenti di attenzione cercare di essere il meno possibile esposti a questo tipo di reato che è odioso ce ne rendiamo conto e per quanto ci riguarda io come mia intenzione è quella di cercare di intensificare ancora più in dispositivo sul territorio rispetto a quello che è attualmente ho notato subito un'estrema disponibilità da parte del signor Colonnello così anche a dedicarci un attimo di tempo oggi anche se magari la visita del signor Colonnello era in programma soltanto con la locale compagnia dei carabinieri la presenza oggi appenne già dimostra una particolare attenzione a questo territorio il CAI di Teramo e il BIM hanno presentato il calendario 2017 all'interno del quale ci sono immagini della montagna teramana per rilanciare e far scoprire gli angoli emozionanti e più sconosciuti del Gran Sasso Tania Bonnici Castelli il club alpino italiano e il BIM di Teramo si stringono insieme per il rilancio della montagna teramana e realizzano un calendario con immagini inedite le fotografie che si possono ammirare nei 12 mesi dell'anno esplorano gli angoli più reconditi e quelli più noti del Gran Sasso d'Italia con l'intento di suscitare emozioni nuove cosa avete esplorato della montagna questa volta? ogni volta cerchiamo di esplorare quello che è la relazione tra l'intimo di chi va in montagna e l'ambiente esterno quindi sono immagini che cercano di trasmettere anche le sensazioni le emozioni che prova chi va in montagna magari frequentando luoghi ben conosciuti ma nei quali ogni volta è possibile scoprire nuovi aspetti nuove emozioni nuove sensazioni quindi sono immagini che cercano di allontanarsi dalle inquadrature scontate ed entrare più nel particolare del contesto ambientale Presidente ma solo attraverso le immagini si porta gente in montagna il CAI cosa fa per attirare più turismo? Noi abbiamo un'attività sezionale molto intensa abbiamo una serie di escursioni un programma di escursioni guidate dai nostri accompagnatori che è piuttosto denso Tramandare immagini della montagna terramana rappresenta per il CAI una missione a favore delle prossime generazioni che dovranno impegnarsi per la tutela dell'ambiente montano in tutte le sue componenti non ultima quella umana Presidente sono tantissimi gli sforzi per il rilancio della montagna vero? Sì in questo momento siamo in difficoltà enorme io cerco di collaborare con i miei sindici in particolar modo della montagna e questo qui ne è la testimonianza è un progetto oltre ventennale che collaboriamo con il CAI devo fare i complimenti al CAI anche al nuovo Presidente per le ottime fotografie sempre per la promozione del nostro territorio ci serve e ne abbiamo bisogno dal 2012 nel comune di Chieti attivo il regolamento che vieta l'uso di petardi e botti per il capodanno per festeggiare il passaggio al nuovo anno su questa scia si è mossa un'iniziativa di un consigliere di Fratelli d'Italia lui si chiama Marco Di Paolo che punta a sensibilizzare alla questione è stato intitolato zero botti più biscotti vediamo concorso fotografico su Facebook con un premio alla foto con più like al vincitore e un buon acquisto di articoli per animali è già iniziata e proseguirà fino al 15 gennaio prossimo a Chieti la campagna di sensibilizzazione e il concorso fotografico a premi zero botti più biscotti contro l'uso di botti e petardi durante le festività natalizie pericolosi sia per l'uomo sia per gli animali ne è promotore il consigliere comunale Marco Di Paolo del gruppo Fratelli d'Italia l'iniziativa segue l'approvazione del regolamento per il divieto di uso di petardi e botti che il comune di Chieti ha adottato già dal dicembre 2012 fra i primi comuni in Italia semplicissime le modalità di partecipazione tutti possono diventare testimonia della campagna aderendo al concorso fotografico legato alla pagina social zero botti più biscotti al vincitore che sarà decretato in base alla foto con maggior numero di like verrà assegnato un buon acquisto di articoli per animali del valore di 50 euro il consigliere Marco Di Paolo è un'iniziativa fatta soprattutto per sensibilizzare il nostro regolamento contro le botte e petardi ma io vorrei portare anche qualche dato dal 2012 quando è stato attuato questo regolamento sia nel 2012 2013 2014 e 2015 nei pronto soccorsi che avete nel nostro ospedale civile non è arrivato nessun ferito nemmeno lieve e questo è poi anche l'effetto che avete di questo regolamento non solo ma è stato anche riconosciuto come un regolamento buono anche dall'Associazione Nazionale Comune d'Italia e dall'Associazione Cinofili d'Italia che ho sede a Milano che ci hanno messo nella città virtuose a difesa degli animali Apriamo la pagina dello sport esclusioni eccellenti nel Pescara che domani sera avrà il match con il Palermo Alberto Aquilani e il Raimanai non sono stati convocati la loro esperienza in bianco-azzurro si può considerare conclusa stamani la squadra ha sostenuto l'ultimo allenamento nel ritiro capitolino alle 15 si è imbarcata a Fiumicino raggiungendo Palermo con un volo charter il punto di Paolo Renzetti scoppia il caso Aquilani nel Pescara la vigilia della delicatissima gara di domani sera alle 20.45 al Renzo Barbera di Palermo il 32enne centrocampista non è stato infatti convocato per la sfida con il rosa nero dal tecnico Massimo Oddo per scelta tecnica nelle prossime ore arriverà così la rescissione contrattuale fra l'atleta e la società Bianca Azzurra non convocato anche l'attaccante albanese Reimanai colpito da un attacco influenzale ma destinato a tornare all'Inter nel Pescara è già iniziata la rivoluzione di gennaio intanto la squadra quest'oggi è atterrata all'aeroporto Punta Raisi di Palermo poco prima delle 16.30 prima di recarsi in un albergo del centro domani mattina in programma il risveglio muscolare che servirà al tecnico Bianca Azzurro per sciogliere le ultime riserve sulla formazione da far scendere in campo considerando le assenze il Pescara dovrebbe schierarsi con il Consuetro 4-3-2-1 e con Bizzarri in porta Zampano Campagnaro Ghiomber e Biraghi in difesa con Memushai Bruno e Cristante a centro campo e con Brugman che dovrebbe agire in una posizione più avanzata al fianco di Benali e a supporto di Gianluca Caprari unica punta di ruolo nel Palermo Gazzi dovrebbe giocare dal primo minuto con Ilemarche Diamanti inizialmente destinati alla panchina i rosa-nero in attacco si affideranno a Nestoroschi al Barbera previsti oltre 25.000 spettatori grazie al ritrovato entusiasmo dopo la vittoria di Genova e alla politica dei prezzi stracciati adottata dalla società del patron Zamparini Morale a mille in casa del Palermo dopo l'eccezionale vittoria con la rimonta sul Genoa i prezzi stracciati per riempire il Barbera recupera il difensore Gonzales che dovrebbe partire dalla panchina e il tecnico Corini che dovrebbe confermare a grandi linee l'11 di Marat si presenta così il match ascoltiamo come ho detto anche la conferenza che precedeva Genova dobbiamo pensare a noi comunque fare punti noi è stato importante farli a Genova sono arrivate attraverso una prestazione dove la squadra ha dimostrato coraggio e voglia di crederci abbiamo tanti aspetti su cui dobbiamo lavorare e migliorare però questa è la base secondo me per credere nel nostro obiettivo che sappiamo quanto sarà difficile da perseguire però se avremo questo tipo di atteggiamento questo tipo di voglia questa voglia di andare oltre a tutte le difficoltà sicuramente potremo fare molto bene e adesso affrontiamo appunto uno sconto diretto che come abbiamo sempre detto saranno determinanti per decidere il nostro futuro io penso che il nostro futuro si determina lavorando bene ogni giorno qui e preparando la partita che dobbiamo andare ad affrontare sicuramente affrontiamo una squadra che lotterà con noi fino alla fine per raggiungere l'obiettivo della salvezza una squadra sicuramente arrabbiata visto anche l'ultima sconfitta casalinga con il Bologna e di conseguenza viene un pescara che viene a Palermo come noi siamo andati un po' a Genova e dunque questo deve alzare il nostro livello di attenzione che deve essere massima abbiamo dei difetti e delle cose che solo attraverso una grande applicazione una grande concentrazione una voglia veramente di andare a sviluppare al massimo delle nostre possibilità ci potrà consentire di fare una grande prestazione e di conseguenza creare le premesse per vincere la gara senza questo sarà molto difficile e non possiamo permettercelo e farò di tutto che questo non accada perché è una partita troppo importante per noi la cosa importante che abbiamo recuperato Pipo che è tornato a disposizione da quando siamo tornati lunedì ha cominciato a allenarsi con la squadra certo non sono tantissimi generalmente ne ha fatti due ne fa un terzo oggi e lavorerà domani mattina però visto la situazione globale voglio valutare fino alla fine su chi fare affidamento in funzione di acciacchi vari condizione atletica e cercando anche da questo punto di vista di valutare su chi posso fare un rischio e posso correre su un giocatore non posso permettermene di più e noi chiudiamo con un messaggio di condoglianze perché nel pomeriggio è venuto a mancare Rinaldo Dorazio il papà della nostra collega Germania direttore della sede del TG L'Aquila Germana e a tutta la famiglia l'abbraccio di TV6 la redazione e anche la direzione con il nostro editore Quintino Pallante i funerani si terranno venerdì alle ore 11 nella chiesa dei Cappuccini nei pressi di Piazza Dante di Teramo è tutto per questa edizione il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nell'edizione delle 23 grazie per essere stati con noi